3 di Dio, Onnipotenza Supplice di Padre Stefano Maria Manelli Il potere della maternità divina di Maria Santissima, come si esprime Padre Pio, è tale che ella impone la pazienza anche a Dio. E Padre Pio ci spiega che la Madonna, quale madre esemplare, può anche far mutare a Dio il suo atteggiamento. Come può fare ciò la Madonna? Padre Pio spiega che ella influisce su Dio, nel senso che dall'essere favorevole alle cose divine giuste lo porta ad essere favorevole alle esigenze degli uomini e qualche volta anche ai difetti degli uomini. È il potere ammirabile della madre divina questo. E serve davvero a confortarci nella nostra piena fiducia figliale in lei, che è la dolcissima mamma di Dio e mamma nostra. Un esempio evidentissimo dell'onipotenza supplici della Madonna lo vediamo alle nozze di Cana. Mancando il vino durante il festino nuziale, la Madonna si rivolge a Gesù e l'avverte che non c'è più vino, ma Gesù le risponde, non è ancora giunta la mia ora. La Madonna, però, non lasciandosi scoraggiare dalle parole di Gesù, dice, servi, fate quello che egli vi dirà. E Gesù compie il miracolo.